Una donna travestita da infermiera ha commesso un rapimento presso il reparto maternità dell'ospedale San Juan de Dios di Nueva Guandalupe in El Salvador. Fingendosi infermiera è riuscita a prendere il neonato direttamente dalle mani della madre fingendo di dovergli somministrare delle cure. Una volta in possesso del neonato lo ha nascosto all'interno di uno zaino e si è allontanata furtivamente dalla struttura ospedaliera. La dimensione della tragedia si è rivelata solo quando un'autentica infermiere è arrivata in stanza per prelevare il bambino facendo emergere la terribile verità sul rapimento. Le autorità sono intervenute immediatamente avviando le ricerche ma la donna era già riuscita a scomparire dall'ospedale senza lasciare traccia per fornire ulteriori dettagli sulla vicenda sono stati resi pubblici filmati delle telecamere di sicurezza presenti nell'ospedale. Le immagini mostrano la falsa infermiera attraversare i corridoi dell'ospedale sfuggendo all'attenzione del personale. In un momento cruciale del video la donna si volta di lato e pone il bambino nello zaino completando poi la sua fuga senza essere scoperta.